gentili telespettatori buona giornata nuova disposizione di legge da parte del governo italiano arresto fino a 18 mesi e multa fino a 5 mila euro per chi è positivo e per chi non rispetta la quarantena le pene previste per chi è in quarantena perché positivo ed esce di casa ma anche per i contatti stretti quelli che sono in quarantena che non rispettano l'isolamento sono quelle che vi ho appena menzionato ci sono praticamente dall'ultimo bollettino 80.000 nuovi casi solo nella giornata di ieri 80.000 per 10 persone che hanno visto negli ultimi giorni almeno si parla di due milioni e mezzo in isolamento fiduciario cioè gli viene detto devi stare a casa non uscire mi raccomando per questo per tot numero di giorni perché tu sei uno di quelli che ha incontrato quella persona che è risultata positiva non uscire di casa settimana scorsa avevo fatto un video non mi ricordo quale giornale aveva fatto una ricerca si era scoperto che a roma hanno scoperto migliaia di persone che dovevano essere in isolamento fiduciario che se ne fregavano altamente derano in giro a fare gli affaracci propri su questo non avevo alcun dubbio che gli italiani non rispettassero questa regola chissà come mai così un sesto senso bene e così intanto il tracciamento è praticamente saltato non so quanti italiani veramente abbiano ricevuto la comunicazione per stare a casa perché il tracciamento non funziona non funzionava quando erano pochi casi figuratevi adesso però per quel poco che funziona per quel poco di persone che vengono chiamate gli viene detto ah devi stare a casa perché di qua di là ci hanno comunicato potrebbero esserci dei controlli beh le asle sono in affanno due milioni e mezzo di persone a casa ma come le controlli ecco i contagiati non vengono contattati dopo aver ricevuto l'esito del tampone capita sempre più spesso che sia in ritaldo per alcuni la sospensione del green impasse che invece dovrebbe essere automatica eppure i rischi per chi viola le norme sono pesanti chi è positivo e viola la quarantena rischia la denuncia per l'articolo 206 del testo unico della legge sanitaria 265 del 1934 si tratta di un reato contravvenzionale che prevede l'arresto da 3 a 18 mesi e l'ammenda da 500 a 5000 euro se durante la violazione della quarantena si infetta qualcuno scatta la denuncia per il reato di epidemia colposa o dolosa e chi è consapevole di avere il coronavirus ma non lo dichiara contravvenendo alle regole di isolamento domiciliare e quarantena oltre all'imputazione ex articolo 650 del codice penale in osservanza dei provvedimenti dell'autorità rischia anche reati più gravi se dal suo comportamento derivano danni per le persone chi rientra nei contatti stretti di un positivo e viola l'isolamento fiduciario rischia la sanzione amministrativa tra 400 e 1000 euro secondo le attuali norme chi è positivo può uscire soltanto dopo aver effettuato un tampone molecolare negativo chi ha completato il ciclo vaccinale può uscire dall'isolamento dopo sette giorni con un test antigenico molecolare con risultato negativo chi non è vaccinato può uscire dall'isolamento dopo dieci giorni con un test antigenico molecolare con risultato negativo le multe ci sono l'arresto è previsto conoscete qualcuno che è stato arrestato per aver violato la quarantena come vi ricordavo hanno scoperto migliaia di persone a roma che erano allegramente per i fatti loro in giro secondo voi di questo migliaio di persone c'è qualcuno che è andato a processo per direttissima gli è andato 18 mesi di carcere che io sappia no a qualcuno hanno dato multe da 500 5 mila euro che io sappia no questo è il problema italiano vi faccio un altro esempio vi ricordate che gigino di maio o grande quando con salvini allegramente hanno fatto il reddito di cittadinanza avevano detto questo strumento non è fatto pestare sul divano e chi trufferà lo stato andrà in galera per sei anni sei anni avete mai sentito visto una notizia dove si parla di un condannato per truffa allo stato sul reddito di cittadinanza che è finito in galera che io sappia no avete mai visto qualcuno a processo che abbia dovuto pagare al momento che io sappia no il problema italiano è questo c'è la ma la la non c'è la certezza della pena non c'è la certezza della pena se lo stato italiano avesse messo in carcere dal primo all'ultimo dei truffatori del reddito a quest'ora vedrete che prima di truffare lo stato la gente ci pensa non una volta ma ci sta a pensare un mesetto i pro e i contro se la gente viola la quarantena e viene realmente arrestata e portata in carcere senza la condizionale la condizionale ti ho detto di stare a casa non ci sei stato ti metto in carcere con la condizionale per stare a casa ti metto proprio in carcere dietro le sbarre volete vedere che gli italiani realmente in quarantena non escono da casa uno prima di uscire dice ma il rischio non ne vale la candela ecco questo è il problema italiano in più in generale su tante cose la mancanza della certezza coercitiva della pena e così si va in galera ma non so per quale reato alla fine si va in galera in italia pochissimi reati e proprio se hai fatto delle cose incredibilmente negative vai in carcere se no ti danno la condizionale stai a casa e i carabinieri ti citofono sei a casa sì arrivederci arrivederci grazie stammi bene anche tu anche lei mi stia bene arrivederci bene le multe ci sono il carcere c'è vedremo se un giorno vi darò la notizia arrestato notizio sorpreso a passeggiare ai giardinetti quando doveva stare in casa condotto in carcere per direttissima fantascienza italiana è per quello che è il paese delle banane e tutti vengono in italia tanto chi se ne frega non succede mica niente se combini qualcosa anzi magari ti invitano in televisione ti fanno fare un libro arrivederci a tutti e grazie grazie